La Catabra è una delle ballerine più famose al mondo e anche una delle segnanti più famose al mondo di origine russa ma vive al carro dove lavora come ballerina. Ho il grande piacere di avere qui con noi e un grande piacere di presentare Magrida Ciacieco! Grazie a tutti! 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 ! 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